È dedicato alla sostenibilità degli stili di vita, l'incontro che apre il ciclo di laboratori di Pordenone è più facile. L'appuntamento è per sabato 29 settembre alle 9. Tutti i cittadini sono invitati a Palazzo Badini per condividere le loro idee sulla città di domani. Dopo il simposio inaugurale del 15 settembre, entra così nel vivo il percorso partecipato della città verso il nuovo piano regolatore. Noi vi aspettiamo domani perché insieme vogliamo costruire la nostra nuova città e parlando di sostenibilità vogliamo capire come la sostenibilità degli stili di vita potranno rendere più facile abitare a Pordenone. È un percorso interessante perché la parola parte dai cittadini e quindi è un'occasione che tutti dovremmo sfruttare. Quindi venite a questo primo seminario ma anche i prossimi. Vi attendiamo per immaginarci insieme la Pordenone di domani. I laboratori successivi si terranno sempre sabato mattina ogni due settimane per affrontare i temi della mobilità, accoglienza, resilienza e trasparenza. Una serie di incontri che consentirà quindi di sviluppare il tema della città smart.